Negli ultimi mesi la provincia di Macerata ha effettuato un monitoraggio sulle attività estrattive ed è emerso che alcuni progetti autorizzati sono ormai prossimi al loro completo sfruttamento. Anche per questo l'amministrazione preseduta da Pettinari ha ritenuto necessario procedere a una nuova programmazione dell'attività. Il primo dicembre di quest'anno la Giunta ha approvato i criteri per l'aggiornamento del programma. Il settore urbanistica ha il compito di formulare una proposta di programma. Noi contiamo entro gennaio. Su quel schema, su quella proposta avvieremo immediatamente con tutti i soggetti interessati e comunque competenti. Da un punto di vista istituzionale sono le amministrazioni comunali, da un punto di vista delle parti sociali, da un punto di vista delle categorie economiche. Insomma una concertazione a 360 gradi che sarà anch'essa la più completa ma anche la più stringente possibile in modo da poi definire la proposta di piano anche in commissione consigliare naturalmente che dovrà fin da subito approfondire e fare le osservazioni e anche le necessarie proposte di aggiustamenti, di modifiche, di aggiornamento. Dopodiché il tutto andrà in consiglio provinciale. Riteniamo che sia non solo necessario e doveroso ma anche utile per la collettività ed è per questo che la complessità abbiamo cercato di ridurla al massimo e siamo arrivati ad una proposta su cui lavorare.